Ben raga, oggi siamo in un nuovo episodio di Minecraft stavolta siamo in vanilla su un server di italiano che ora stiamo giocando al minigame di chi appa la bandiera cioè capture the flag cattura la bandiera quello ecco, mi sono appena suicidato per sbaglio sta arrivando un tizio verde a rubarci la bandiera ma io lo uccido prima vince chi dopo un tot di tempo ha rubato più forte la bandiera l'altra squadra ho già fatto un bel po' di partite sono abbastanza scarsi, si stanno uccidendo anzi no, mi stanno aiutando a uccidere ok 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 ah sta per finire tipo c'è anche gente di qua no, è lui che stava morendo tipo allora da questa parte si può arrivare al territorio verde il server è anonymous craft questo server naturalmente non bisogna fare come è cioè ci sono tanti minigiochi un casino di roba ma peccato ma bisogna andare a prendere la bandiera e quindi non perdere tempo come faccio un nostro compagno ha rubato la bandiera verde ok one shot questo non si è accorto neanche che io la stavo inseguendo ok ucciso vediamo un po' cerchiamo di rubare la bandiera tipo per rubarla bisogna distruggere cioè distruggere il blocco di lana verde ok aia ecco il blocco di lana verde portarla qui da noi allo spawn ok sto facendo finire nella lava ok ah non l'ho ucciso allora andiamo verso il territorio verde senza mai morire in vano ok c'è tanta gente qui steve ok what's questo c'è qua dietro what's allora ah qua c'è un coso di ah metto di qua che non mi serve tanto questo è molto intelligente a parer mio ecco anche io vabbè non posso dire niente neanche io allora avviciniamoci alla bandiera molto furtivamente infatti non mi ha notato nessuno non mi hanno visto aia no no fuck fuck devo scappare no peccato ok sono molto svegli infatti non mi hanno visto ma ok naturalmente questi possono distruggere i blocchi fare un po' quello che volete eh per cercare di non far arrivare l'avversario alla bandiera mettere dei blocchi davanti ah sarik ce l'hai con me eh ah 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 e se io ti killassi fare così e stillarti la bandiera no 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 fuck se mi ricordo di mettervelo vi metterò il link in descrizione c'è il link il link in descrizione di questo server e boh tutte le spiegazioni cose cose sono tutti sul server appena entrate ok ok per loggare bisogno uts mi hanno shottato no boh sono sparito tipo boh sono solo che sono morto quindi non mi sembra per niente giusto no per niente poi magari registreremo anche qualche episodio con Nick TK ci stavo già giocando solo che più che giocare è la cazzeggiare non stavamo facendo non facevamo niente sempre su queste cose poi c'è quakecraft altri mini giochi molto figli giovole verde ok è verde cioè è ancora verde però no poverino vabbè vuole affrettino ma se sono viola ecco non vuoi più affrettino eh ah ah su ah 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 si ok no sono morto what's ah mi ha ucciso fromy pensavo fosse morto andiamo un po stanno costruendo la nella cosa vicino alla bandiera ma io farò molto stealth non ci sono io piacere non sono Matteo non voglio stillarvi la bandiera ok no 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 nano sei un nano mori malissimo no accidenti questa partita non ho idea fino a quanto durino soprattutto mi sembra tipo fino a che qualcuno non ruba tipo 50.000 una squadra non ruba 50.000 volte la bandiera degli altri cose così aia ok ecco what's ecco intelligente green spawn or flag cos'è cosa vuol dire non idea ah c'è questo qui vero che è un c'è uno sniper povero me mi ha sciuttato 50.000 volte vediamo se riesco a killarlo buono ok sciuttato così l'ho tolto di mezzo e possiamo arrivare più facilmente alla bandiera ora siamo 50.000 magari riesco anche a prenderla ce l'ho io ce l'ho io sono un fucking stealer si si fuga 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 no devo sopravvivere devo sopravvivere no fuck devo sopravvivere si no 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 ti odio malissimo no è quella flag no no ce l'avevo così fatta fuck è tornata di là si uffi il mio piano molto ma questo buono li sto uccidendo una dopo l'altro ok steve vuole sempre fare il team ma alla fine mi chila sempre accidenti un altro aveva rubato la bandiera verde io ho capito sempre nel team verde cioè ma sei un genio allora ti mette la protezione tipo presa ho finito il fricciuche fuck dovevo ucciderli tutte e due così yeah non ce ne sono a proteggere la fucking flag aia 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 resisterò prima o poi non sono un verde io sono cioè si sono un verde io sono super io sono verde sono vostro amico non dovete killarmi no fuck difendimi difendimi no 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 c'era quello davanti a me ti odio dovevi aiutarmi non è giusto dacci sua fuck no devo difendere il mio compagno di squadra ok buono bro no Peppe ha ucciso il tizio Peppe è un genio ok fuga 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 si si ho vinto si 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 ottimo brothers dai andiamo a riprenderla proprio perché sono big big bandiera ok andiamo a rubarla di nuovo perché non mi accontento non mi accontentare non mi accontenti non mi accontenti abbiamo vinto che lo stanno andando a portare la bandiera che molto pvpr pro solo un colpo ok riprendiamola ok ciao salve salve non mi faccia morire fa c'è un tizio qui no la nostra bandiera no cane no cane no 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 non devi uccidere il mio compagno che sta aiutando il mio no 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 tu non ci non ci ruberai la maniera capito capito ma porco non l'avevo mica visto batman 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 abbiamo vinto che ha vinto scorso un po abbiamo vinto tipo sì quindi grazie per la visione vi ricordo che il link in descrizione è questo è questo qua il server è questo anonimuscraft e il server è questo qui emessi appunto anonimuscraft.it quindi grazie per la visione ci vediamo un prossimo episodio nel prossimo magari vedremo un po di anche gli altri mini giochi poi se sono in compagnia meglio quindi grazie arrivederci a tutti e poi ho sbagliato prima non c'è non c'è intendevo skybox quindi c'è intendevo skybox arrivederci grazie a tutti